Che cosa è successo stamattina? Niente, ho imprestato la macchina a mia mamma stamattina che ha portato a scuola mio fratello più piccolo. Quando è ritornata e stava partendo per andare a fare lavoro, a lavorare, si è ritrovata la macchina spostata, tamponata davanti al cancello dell'abitazione davanti a noi. E il problema è che non abbiamo sentito nulla e quello che ci è venuto addosso è scappato. Il fatto è accaduto in quartiere San Vito, precisamente in Via Costa, tra le 8.05 e le 8.20 di stamattina. L'auto in questione è un Alfa Romeo 166 di proprietà di questo 21enne che proprio oggi eccezionalmente aveva prestato l'auto alla mamma. La scaraventata addosso al muretto del vicino dove c'era anche un palo con la segnalettica, con il divietto di sosta e ha rotto anche un bidone dell'umido che era là. E c'è il palo che è piegato e ha piegato anche la recinzione dell'abitazione davanti a noi. Che danni ha riportato la macchina? C'è una bella ammaccatura sul lato davanti, è rientrato un po' la fiancata e dopo dietro abbiamo lo stampo un po' della targa e il baule che non si apre. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Bassano che stanno indagando per arrivare ad identificare i responsabili. Se qualcuno ha visto per caso qualcosa in via Costa 23 è di rivolgersi ai vigili urbani di Bassano. Si è preoccupato, dispiaciuto? Sì perché adesso sono senza macchina e ho la macchina che è un po' irrecuperabile adesso e non ho soldi per sistemarla.